Una buona serata. Questo video sarà molto breve, né solo per alcune comunicazioni pratiche. Cominciamo dalla prima, la più curiosa, insomma, la più interessante secondo me, ed è quella che ho non fatto un nuovo canale, ma ho riadattato un nuovo canale. Nel senso che avevo un canale che non serviva praticamente a niente, insomma lo tenevo inutilizzato perché volevo fare qualcosa dedicato ai bambini, cioè il nonno racconta, l'avevo intitolato. Poi in realtà c'è un altro canale che uso sempre per postare delle fiabe dedicato ai bambini e quindi due cose analoghe non servono più. Allora ho pensato che invece di cancellare questo canale potevo utilizzarlo. Per fare cosa? Ho pensato questo. Ormai sono dieci anni che sono su YouTube, forse quasi undici, insomma, no, dieci. Insomma, ho cominciato alla fine del 2009, mi pare, a postare i primi video. Da allora, diciamo, in tempi di YouTube è passato un'eternità, insomma, le cose sono molto cambiate. Si faceva YouTube in modo molto più sperimentale, molto più... Con la piccola web da pochi euro e senza nessuna... Adesso, insomma, il mondo intorno è cambiato. I video non potevano durare più di dieci minuti, c'erano un po' gli sperimentatori, almeno tra quelli che intendevano usare YouTube non per vendere, insomma, non per fare spot pubblicitari o quant'altro, insomma, per quelli che cercavano di dare un'impronta un po' artistica, insomma, di creare dei contenuti che fossero dei contenuti, no? E quindi c'erano anche dei personaggi all'interno di YouTube, dei personaggi con i quali, per esempio, mi è capitato anche di confrontarmi, a volte di entrare anche in polemica, insomma, è passata una vita, insomma, da allora. Poi uno si inquadra, cerca di trovare la propria strada, cerca anche di capire se poi ci sta bene in questa situazione, cioè qui dentro, su YouTube, se tiene il fatto di... di mostrarsi, insomma, no? Non è facile anche mostrarsi, parlare con chi non vedi, insomma, avere anche qualcosa di interessante da dire o da proporre, insomma, no? E quindi, insomma, è passato tanto tempo. Per me sono passati dieci anni, poi c'è chi c'era prima, molti che saranno allora non ci sono più, molti si sono evoluti e poi sono venute fuori tante altre cose, insomma, YouTube è diventato poi anche una vetrina per i professionisti, non soltanto per i dilettanti che, insomma, no? Fanno qualcosa così in maniera lobbistica, insomma, è diventato uno strumento molto professionale, poi sono creati anche i sistemi per avere visualizzazioni, visibilità e tutto il resto. Tutto questo per dire che ho vissuto un'evoluzione all'interno di YouTube e io stesso ho cercato anche di cambiarmi, le cose che facevo una volta non le faccio quasi più e, insomma, come avete visto, insomma, il canale è strutturato poi fondamentalmente intorno agli audiolibri. Però, insomma, ho fatto tante cose all'interno di questo canale, di alcune un po' mi vergogno, no? L'ho già detto, molte cose le ho anche tolte perché poi, insomma, non si può tenere troppo, no? All'interno di un canale, insomma, è scontato che bisogna potersi far identificare in un determinato tipo di contenuti, insomma, no? Quindi il canale deve essere individualizzato in un certo modo. Per me non è facile, quindi vedete che ogni tanto ho posto roba di vario tipo, insomma, roba che esula dalle letture. Però, insomma, io sono fatto così, non so stare rigidamente in qualcosa di definito. Ma fondamentalmente il contenuto poi sono le letture. Allora, in questi dieci anni ho prodotto tante cose, cose anche spesso stupide, banali, insomma, nelle quali ho cercato anche un po' di divertirmi, oppure di sfogare ironicamente determinate cose, di criticare con ironia determinati personaggi anche che ho visto in rete, insomma. Ho cercato di fare delle cose come le so fare, insomma, a questo livello. Sta di fatto che molte le ho tolte, no? Ho tolto tantissimi video che ho fatto. Pensiamo che in questo canale più o meno, credo, sia presente il materiale che... Oh, materiale che è stato prodotto da cinque anni a questa parte, cinque, sei anni. Quello che è stato prodotto nei primi quattro anni, più o meno, insomma, è stato tolto. Non proprio tutto, forse, ma quasi tutto. Allora, per ritornare al discorso iniziale, ho pensato di dedicare questo canale un po' alla storia, questo nuovo canale, che si intitola L'Angelo Azzurro, perché, insomma, ho fatto una foto in cui sono vestito di azzurro e sono dietro una specie di monumento di vetro, anche su azzurro, che dà quasi l'idea delle ali. Io ho dato quella foto e poi, come sottotitolo, il peggio di me, perché, insomma, ho dato il peggio di me in queste cose che posterò. Forse non sempre proprio il pezzo, ma, insomma, diciamo, a volte è un'immagine che viene fuori, che magari non corrisponde a quella che qualcuno si fa, magari vedendo cose serie, no? Ognuno di noi ha un lato, diciamo, serio, una faccia serie, e una faccia è un lato un po' meno serio, insomma, più scherzoso, più giocoso, a volte più stupido, magari, no? C'è anche questo lato che deve venire fuori, no? Come tutte le cose, no? Sono sempre un po' ambivalenti. Le cose che sono troppo uguali e sempre uguali a se stesse, insomma, c'è da dubitare su queste cose. E allora ho trasformato questo canale che già esisteva, che aveva pochissimi iscritti e che quindi ha pochissimi iscritti, stimolato anche dal fatto di aver visto come avete accolto quel video a Compagna Cercasi, che avevo fatto ancora dieci anni fa come video di risposta a un altro video, insomma, fatto su un altro tono, ma di contenuto analogo, postato da una persona con la quale anche allora avevamo uno scambio, insomma, no? E visto che, insomma, l'avete accolto un po' con curiosità, ho deciso di mettere in questo canale altre cose, altri video che ho fatto, spesso ironici, a volte un po' stupidi, a volte un po' assurdi, insomma, no? Nel senso che chi vuole avere poi un'idea, insomma, di cosa può succedere, insomma, di cosa può fare qualcuno, insomma, qua, soprattutto in tempi in cui magari gli iscritti non erano trentamila, quindi, insomma, non ci si confrontava con un pubblico, ma facevi un video e lo vedevano dieci persone, cinque, insomma, no? Per tanti anni sono andato avanti con un pubblico molto, molto modesto, quindi con un pubblico molto modesto ti puoi permettere anche, così, di manifestare certi aspetti, diciamo, meno seriosi del tuo carattere, no? Qualcuno, quando avevo fatto questo Repulisti dei vecchi video, delle vecchie cose, mi aveva criticato, insomma, non si cancella quello che si è fatto, insomma, lo si lascia. Allora sono arrivato a questo compromesso, insomma, cercherò di rimettere in questo nuovo canale, quindi di dare una forma a parte, lasciando la serietà del mio canale principale, insomma, no? Di questo in cui posterò questo video, di ripostare le cose che trovo più interessanti, insomma, più curiose che posso aver fatto negli anni precedenti, insomma, negli anni iniziali, quando ero anche più giovane, insomma, no? Si invecchia, c'è poco da fare, si invecchia e magari invecchiando c'è meno voglia di fare quelle cose che si facevano una volta, che si facevano prima. Ecco, se volete, troverete il modo di accedere a questo canale, perché tra i canali preferiti, insomma, vi metto, ripeto, il nome, se volete andare a curiosare, insomma, tra le vecchie cose. Chi è curioso? Ogni tanto noto, insomma, no? Che c'è una qualche curiosità di sapere qualcosa di più su di me, che sto dall'altra parte, insomma, no? Perché faccio sta roba? Chi sono? Se in realtà quello che dico corrisponde a quello che penso? Se scherzo, se faccio sul serio? A volte è anche difficile capirlo, no? Io capisco. Allora, insomma, magari ritornando su vecchie cose, potete anche farvi un'idea, insomma, un'idea, e quindi magari meglio interpretare anche le cose ironiche che a volte vengono prese sul serio, no? L'angelo azzurro, la foto, insomma, che mi rappresenta in questo canale, il peggio di me, perché, insomma, sì, sono le cose un po' peggiori, insomma, ritengo che le cose che sto postando adesso siano di qualità, di un'altra qualità, insomma, siano più seri e più, insomma, migliori, ecco, come qualità. Il pezzo lo lasciamo alle spalle, ma magari lo mostriamo, insomma, lo mostra anche la televisione, no? Si vedono le trasmissioni degli anni Sessanta, degli anni Settanta, insomma, come si rideva una volta, come non si rideva, ecco. Prendiamolo così. È un modo di utilizzare questo materiale che altrimenti sarebbe escluso, che è stato fatto, che è esistito per un po' di anni nel mio canale, e non tutto, ma, insomma, un po' alla volta posterò le cose che penso che possono essere ancora in qualche modo visibili, insomma, anche se non hanno più il significato che potevano avere quando sono state fatte, perché molte cose magari erano di occasione, insomma, commentavano dei fatti che avvenivano in quel momento. Detto questo, insomma, chi vuole può anche provare a curiosare questo canale che cercherò di arricchire. Non mi costa molto arricchirlo, perché il materiale c'è. In genere ho cercato sempre di salvare le cose che ho messo su YouTube, quindi, insomma, nella gran parte dei video ho il file, e quindi mi è poi abbastanza facile ripostarlo. Ecco, questa era la cosa principale che volevo dirvi, poi volevo farvi gli auguri, insomma, volevo farvi gli auguri per il ferragosto. Insomma, andate in ferie, divertitevi, ma state molto attenti, state molto attenti perché questo virus rischia di ritornare e rischia che nel momento in cui viene meno l'attenzione siamo nel momento di maggior pericolo, insomma. Quindi, attenzione, usate le precauzioni minime, ma usate le precauzioni necessarie per cercare di evitare che poi ci sia quella famosa seconda ondata che ha caratterizzato poi così tristemente anche la spagnola di cent'anni, di più di cent'anni fa. Divertirsi, ma con attenzione, insomma, stiamo attenti. Per noi stessi, prima di tutto, e per gli altri. Poi volevo comunque ringraziarvi perché i vostri commenti sono sempre molto lusinghieri, insomma. Io cerco sempre di postare ogni giorno qualcosa di nuovo. Stiamo ormai per finire Maupassant, vedo che vi piace molto, mi sembra una cosa azzeccata questa di fare, come dire, di leggere l'integrale dei racconti di Maupassant. Magari ne lascerò fuori qualcuno che sa magari che venga buono in altre occasioni, visto che, insomma, si va colpo abbastanza sicuro con Maupassant con voi, no? Insomma, ormai la gran parte dei racconti sono postati, ne restano molto pochi. Ne restano fuori pochi dopo quelli che ho già letto e che posterò nei prossimi giorni gradualmente. Quindi grazie anche per i vostri commenti, che sono lusinghieri, eccetera. Un piccolo appunto vorrei fare a quelli che invece mi commentano negativamente. Sono molto pochi, ma a volte, insomma, mi commentano. C'è a volte vedo una certa aggressività con cui si dicono le cose. Si possono dire con meno aggressività. Faccio un esempio. Probabilmente mi è scappata della pubblicità all'interno di alcuni video. Perché? Perché avevo messo delle inserzioni pubblicitarie nei libri lunghi, in 7-8 ore di video, insomma, no? È possibile accettare due o tre stacchi pubblicitari. Poi, purtroppo, questa cosa, nel momento in cui si è inserita, non ero pratico di fare questa cosa, no? Di mettere la pubblicità all'interno del video. Ma una volta che poi la, come dire, la imposti, poi si arranja YouTube a metterla. E magari la mette anche su video più brevi e magari ne mette tanta. E allora qualcuno di voi si è trovato, ho trovato un paio di persone che mi hanno scritto con una certa aggressività che non si poteva vedere, troppa pubblicità, eccetera, eccetera. Basta che lo dite, io la tolgo, l'ho tolta. Ma magari ci sarà ancora, probabilmente, in circolazione qualche video che ha della pubblicità all'interno, forse troppa, perché l'ha messa YouTube, evidentemente. Se vedete che ci sono dei video brevi, mi riferisco, per esempio, ai racconti di Mopassano, ad altri racconti di mezz'ora, insomma, video che non siano di 5 ore, che hanno delle inserzioni pubblicitarie all'interno e che vi danno fastidio, dite, ma io le tolgo. L'ho anche scritto in chi me l'ha osservato. Ma basta dirlo, basta segnalare le cose e io cerco di farlo, cerco di venervi incontro, perché no, insomma, non c'è motivo. Quindi cerchiamo di essere... Ma lo siete, insomma, lo siete anche troppo, insomma. Così, insomma, c'è qualcuno che... Faccio anche presente che se c'è qualcuno che invece, diciamo, entra a gamba tesa, insomma, entra un po' insultando, un po' in maniera così, lo banno, ecco. Perché in qualche modo se vado in casa di qualcuno cerco di essere rispettoso e gentile, insomma, no? Non gli dico per la prima cosa quando vado in casa sua ma che schifo fanno le tue cose ma come tienilo a casa, ma che... Insomma, magari non ci torno più ma semplicemente, insomma, cerco di essere in casa degli altri, cerco di essere educato. Allora, se uno entra nel mio canale a gamba tesa non gli piace, insomma, ma non soltanto non gli piace ma dice parole offensive, insomma, si esprime un certo... Sono pochissimi, eh. Ma questi pochissimi voglio che si sappia che una volta che sono entrati non scriveranno più nel canale, ecco. Mi riservo la risposta e in genere rispondo. però se il commento usa anche parole offensive, insulti o parolazze, che so io, insomma, così elimino il commento e anche tolgo la possibilità a questo signore di tornare a commentare. Certamente avrà occasione di commentare in altri canali e ha a sua disposizione tante altre cose da vedere. Ma, insomma, qui, no, insomma, stiamo... Cerchiamo di essere rispettosi, no? Facciamo un lavoro. Ecco, un altro signore mi critica perché dicendomi, amico mio, il commento è interessante ma l'eliminazione automatica delle pause è più che irritante. Irritantissima, leggo. In realtà io non elimino automaticamente le pause, però siccome mi accorgo di essere prolisso, a volte ho degli intercalari. I tempi di YouTube sono tali per cui se sei lento la gente non ti sta a sentire. Una volta che ho fatto il video come questo, insomma, in cui cerco di dire alcune cose, bene, lo riascolto e più che eliminare le pause cerco di eliminare delle cose che magari ho detto due volte o magari degli intercalari che sono fastidiosi oppure dai momenti in cui ti prendi per pensare. Ecco, ma non faccio né un'operazione di eliminazione automatica delle pause né un'operazione di velocizzazione come vedo che ragazzini fanno, no? cioè di accelerazione del ritmo del video. I video sono così soltanto che taglio delle frasi che sono in più in modo tale da rendere più scorrevole e più fruibile il discorso. Insomma, se questo è così pensavo che questa potesse essere una cosa gradita non una cosa così fastidiosa. Comunque niente di automatico. Cerco semplicemente di togliere quelle cose che possono essere delle lungasini che allungano la durata del video e che non dicono niente di più. Insomma, è tutto qua. Mi pare di non avere altre cose da dirvi. Insomma, per quello che riguarda magari i programmi futuri adesso, finito Mopassant, terminate le vacanze, ci sono ancora le solite cose che sono da terminare e poi si vedrà, ma insomma spero di proporre ancora delle cose che abbiano un certo valore. Mi dispiace sempre per quei libri che amavo e non so, li ascoltavo anche l'altra sera Memoria delle mie puttane tristi di Marques. Insomma, è un libro molto bello. Mi dispiace che non sia possibile postarlo su YouTube. Insomma, pazienza, insomma, però se qualcuno ho cercato sempre di accontentare, insomma, se qualcuno mi chiede dei libri che sono stati postati una volta, eccetera, eccetera, e ha voglia di ascoltarli, di averli, insomma, mi scriva, io per quello che posso cerco sempre di accontentare tutti. vi chiedo scusa se a volte magari ha dei commenti così, positivi, lusinghieri, così, non vi rispondo oppure vi metto un cuoricino, insomma, nel senso che è il mio modo per ringraziarvi, che dirvi, insomma, grazie, insomma, siete gentili, io cerco di fare del mio meglio e se vedo che questo è apprezzato mi fa piacere. vedo che anche hanno avuto abbastanza così, hanno avuto anche abbastanza seguito, successo, in qualche modo apprezzamento anche quei libri di autori diciamo nuovi che ho letto e postato abbastanza recentemente, ecco, insomma, è un lavoro che nei limiti delle mie possibilità posso fare, cerco preferendo romanzi brevi, insomma, perché vabbè, lo sapete, l'ho già detto, insomma, leggere è anche faticoso, insomma, e poi perché in realtà mi va anche di seguire la linea dei classici, insomma, no, però all'interno di questo, insomma, se qualcuno mi propone, insomma, un libro che condivido, insomma, volentieri ne leggo un estratto, ecco, 15-20 minuti li leggo volentieri, non mi dovete niente per queste cose, li leggo, li posto, ve li mando in modo tale che poi potete tenere il racconto, potete postarlo sulla vostra barcheca di Facebook e così via. per libri più impegnativi invece mi riservo un po' di valutarli, insomma, no, perché devi anche nel momento in cui li devi leggere devi interpretare, devi essere anche convinto di quello che vai a leggere e di interpretare e soprattutto devi avere il tempo a disposizione quando questo tempo poi diventa magari una settimana o due, insomma, quindi per quello mi riservo. Bene, detto questo io vi auguro una buona serata, vi auguro delle buone vacanze, il caldo è molto, sono appena ritornato da una passeggiata, sono sudato, però insomma, sopportiamo anche questo caldo, passerà, passerà in fretta e non è questa la cosa che preoccupa di voi in questo momento, la cosa che preoccupa di più almeno personalmente a me è che non è l'autunno, insomma, quello che ci aspetta nei prossimi mesi, sperando che le cose invece vanno nel modo migliore possibile e che le previsioni di una seconda ondata siano non del tutto vere. Speriamo, speriamo. Una buona serata a tutti, ciao. Speriamo. Speriamo. Speriamo.